Il nome deriva dalla forma, dal colore e dalla leggera peluria sulle valve simile a quella dello zoccolo di cavallo. Per aprirlo basta provocare uno scatto con la lama di un coltello nella parte posteriore. Una volta girato inserite la lama tra le due valve con un deciso movimento. Il frutto ha un sopore decisamente amaro ma la particolarità di questo mollusco è il sangue. A secondo delle varietà rilascia un liquido di colore rossastro che esce una volta aperto. Mangiatelo crudo oppure inserito in una zuppa.